Una delegazione di piccoli e medi comuni dell'Abruzzo sono stati ricevuti all'interno della sede dell'Europarlamento di Bruxelles per un incontro nell'ambito del progetto Urbact, finalizzato a conoscere meglio gli strumenti offerti dalla principale iniziativa europea in materia di sviluppo urbano sostenibile. Il programma, che ha coinvolto negli anni decine di comuni italiani, punta a favorire la condivisione di strategie e conoscenze per affrontare le sfide urbane più urgenti e sviluppare metodologie capaci di migliorare nel complesso la governance delle città. La presentazione è stata un'occasione per i comuni abruzzesi partecipanti di scoprire come entrare a far parte delle reti di città europee promosse dal programma in vista del prossimo bando in uscita ai primi di gennaio. Un'iniziativa veramente costruttiva che mette nei condizioni i tanti amministratori che sono venuti dall'Abruzzo per la costruzione di contatti e opportunità di reti per finanziamenti che vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita del nostro territorio. L'Europa fa cose anche positive, va percorso uno stimolo in questo senso, un'informazione adeguata perché l'Europa è il futuro della nostra vita.